Salva tutti, allora Prendiamo un pezzettino Una tavoletta di cioccolata Allora Contiamo due quadretti dal basso E tre di qua E lo tagliamo in diagonale Allora, tagliamo Senza romperlo, io l'ho già rotto Però va bene Per motivi di tempo l'ho già rotto Sì Ok Ecco Ok Ora la tagliamo per così Fino a dove abbiamo tagliato Ok Si è rotto di nuovo Ok Ora tagliamo il quadrettino qua sopra Ok Tagliamo il quadrettino Spostiamo Questo E si è riformato il cioccolato Con fierezza Grazie E quindi Ci mangiamo il quadrettino Ah Tutto quanto E possiamo farlo una seconda volta Tutto per mangiarsi il quadrettino Una seconda volta Tagliamo di nuovo qua Ok Stavolta l'ho rotto Quadrettino Li mangio il quadrettino E spostiamo E lo riformi di nuovo E si riforma di nuovo Questa è un'opera bonifica Per vedere Magari tua madre dice Ehi ma già sono tu la scanò Guarda L'ho tutta riformata E' a posto Ci metti un po' di scotch e via Esatto Ciao Arrivederci al prossimo video Iscrivetevi sempre sul canale Fede e Marco